Per la simulazione della prima prova dell'esame di Stato il Ministero ha inviato alle scuole le tracce tra cui gli studenti dovevano scegliere. Si tratta di 12 pagine di testi vari. Il Ministero ha disposto anche di predisporre una fotocopia per ogni studente, cosa che in epoca di scuola digitale appare quantomeno curiosa. Risultato, nella mia scuola si sono fatte 2400 fotocopie. La segnalazione arriva da Francesco Mele, docente presso l'Istituto Superiore Meucci di Carpi in provincia di Modena. Mele prosegue. In tutta Italia gli studenti di classe quinta sono circa 470 mila. Se per ogni indirizzo c'è lo stesso volume di documenti, per la simulazione della prima prova, nelle scuole superiori del paese sono stati utilizzati più di 5 milioni e 600 mila fogli di carta. 11 mila risme, diciamo noi, che corrispondono esattamente a 28 tonnellate di carta. Una limpida scelta ecologica per il governo del cambiamento, commenta ironicamente Francesco Mele, che aggiunge ancora, senza dimenticare che a breve si replica anche con la seconda prova. Ma i problemi delle prove d'esame non finiscono qui. Il tema più dibattuto riguarda ancora le buste con gli argomenti della prova orale, che secondo molti studenti e molti docenti potrebbero trasformare l'esame in una puntata del rischiatutto. Vedremo se di qui a giugno il Ministero deciderà di correggere qualcosa. Molti ci sperano, ma la sensazione è che ormai la strada sia stata tracciata. Il tema è di grande attualità, nelle scuole superiori in questi giorni se ne parla molto. Scriveteci, commentate, mandateci anche le vostre esperienze. Grazie.